cari fratelli e sorelle della missione rua del mondo intero oggi nel giorno 31 del digiuno chiediamo a gesù di facci il dono della perseveranza evochiamo lo spirito santo vieni o spirito creatore visita le nostre menti riempie della tua grazia il cuore che hai creato o dolce consolatore dono del padre altissimo acqua viva fuoco amore santo crisma dell'anima dito della mano di dio promesso dal salvatore ira dei tuoi sette doni suscita in noi la parola si luce all'intelletto fiamma ardente nel cuore sana le nostre ferite con balsamo del tuo amore difendici dal nemico recca in dono la pace la tua guida invincibile ci preservi dal male luce ed eterna sapienza sveglaci il grande mistero di dio padre figlio uniti in un solo amore amè leggiamo dal santo vangelo di san marco capitolo 10 versetto 28 fino a 30 pietro allora disse ecco noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito gesù li rispose in verità vi dico non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratele o o madre o padre o figli o campi a causa mia e a causa del vangelo che non riceva già al presente cento volte tante tanto in case e fratelli e sorelle e madri figli e campi insieme alla persecuzione persecuzioni e nel futuro la vita eterna parola del signore lode teo cristo gesù gesù ci spiega in questo vangelo cosa significa seguirlo una rinuncia momentanea per evitare la vita eterna a chi persevera nel seguire gesù il maestro stesso gli darà una casa dei fratelli una madre un padre in altre parole ci esorta ad essere distaccati delle cose terrenne per godere delle cose celesti mentre siamo ancora sulla terra questo significa accettare tutto con mansuetudine dell'animo e gesù avrà cura di restituirci tutto ciò che abbiamo lasciato solo attraverso la constanza e la perseveranza potremo guardare tutto con gli occhi della volontà di dio e accettare tutto con gioia il digiuno e la preghiera ci daranno constanza e perseveranza negli atti di carità nella nostra conversione nelle preghiere nel digiuno la preghiera ci aiuterà a vedere i nostri peccati e aiutare gli altri la carità ci darà il coraggio di poter pregare e digiunare anche per i nostri nemici perseverando nella preghiera del nel digiuno nella carità la vita di gesù diventerà in noi ogni volta più viva più forte pertanto non ci stancheremo più di fare buone azioni ricordiamo queste parole nella carta dei ebrei non abbandonate la vostra franchezza che non ha una grande ricompensa infatti avete bisogno di perseveranza affinché fatta la volontà di dio otteniate quello che vi è stato promesso possiamo vedere che con solo con la perseveranza noi possiamo arrivare a questa profondità la preghiera è vero che ci aiuta a vedere i nostri peccati e aiutare di confessarci ma molte volte questa confessione deve avere con un atto di arrepentirsi profondo e la carità ci dà il coraggio di riparare quello che abbiamo fatto per poter arrivare a perdonare anche ai nostri nemici del cuore perdonare del cuore e dimenticare quello che ci hanno fatto e avere le cose fare per se avere come una perseveranza quello che facciamo è una crescita spirituale una signora degli stati uniti diceva il dono della perseveranza nella preghiera nelle buone azioni arrivato solo quando ho iniziato il digiuno il santo rosario e anche la divina misericordia per me è stato un cammino di ritrovare dio la santa messa non poteva andare ogni giorno ma con il digiuno sì Gesù mi ha dato la perseveranza di poter non mancare mai nella mia vita fino adesso della santa messa e grazie a lui ho ricevuto questo dono di la perseveranza io ho potuto andare alla santa messa io ho potuto anche andare aiutare all'ospedale le persone che hanno bisogno ho avuto una guarigione anche del corpo l'undicesimo giorno a pani acqua sono stato sorpresa nel constatare che non sentivo né sete né fame prima del digiuno bevevo due caffè al giorno ma Gesù mi ha aiutato a rinunciare a questa dipendenza fino al primo giorno lavoro in ospedale come ho detto prima ma la mia mente era molto libera il mio corpo forte grazie al digiuno di dio il cinquinto giorno di digiuno la mia nipote mariana ha iniziato a camminare senza sofferenze ogni giorno la sua salute ha migliorato a gloria di dio durante questo periodo ho avuto ho potuto cucinare per la famiglia e senza alcun problema Gesù mi ha aiutato sono stato in grado di carmi a un ristorante con la mia famiglia e ho mangiato pani acqua insieme a loro è stata una bella esperienza di rinuncia Gesù mi ha regalato anche i giorni di digiuno per i bisognosi ho visto le persone che hanno bisogno io ho chiesto al signore la grazia di digiuno in quel giorno di offrirlo per loro non ho mai mangiato panino e un giorno dopo il digiuno ho rinunciato il mio panino quello che era per me prima era molto molto difficile Gesù ha vinto in me la tentazione e la lussuria anche e questo posso dire queste parole che adesso sono in i tralci di Gesù sono nel suo cuore ricordo queste parole dell'evangelista Giovanni nel capitolo quindicesimo io sono la vite voi i tralci rimane in me e io e lui porta molto frutto perché senza di me non potete far nulla adesso mi rendo conto che senza Gesù non posso fare niente Gesù continuo a darmi questo dono della perseveranza così posso vedere frutti di tuoi dentro di me un'altra persona dei stati uniti ci dice Gesù mi ha dato la forza e la mia e la mia forza e la mia gioia mi ha dato questo dono della perseveranza in questo digiuno ho potuto lavorare in un ristorante o il pulisco in quel ristorante io ho sentito che ho più forza che mai anche ho avuto i giorni più difficili ma non posso dire che mi sono stato sono stancato ho avuto la gioia di poter ricevere la santa comunione Gesù ha sorriso e ride con me e me e tanto tanto bene al mio corpo e anima non sono io ma Gesù che vive in me questa signora degli stati uniti ci dice molti di miei amici non pensavano che fossi a poter poter digiunare ho detto non sono stato io ma Gesù che vive in me ammetto che non potevo farlo sola spero che con gioia che Gesù mi inviterà presto a un nuovo periodo di purificazione attraverso il digiuno grazie Gesù per quello che mi hai dato attraverso questa missione come possiamo vedere il dono della perseveranza arriva quando il nostro corpo lo possiamo dire così lo mettiamo nella croce e così Dio può aiutarci a portarci l'angelo custode ci può dire e noi possiamo sentire e realizzare quello che ci è consiglia la volontà di Dio sempre sempre ci mostra tanti tanti cammini di santità durante il giorno magari ciascuno di noi possiamo sentire e rispondere un sì del cuore tutto quello che facciamo san Pietro crisologo diceva il digiuno non porta frutto se non è innaffiato di misericordia senza questo alimento rinsecisce ciò che la pioggia è per la terra questo è la misericordia per il digiuno ricordati anche che la misericordia inizia con uno stesso confessati e senti quest'amore di figlio e figlia di Dio amato per Dio non giudicato e fai lo stesso con gli altri intorno a te se ti senti perdonato ciò vuol dire che anche tu puoi perdonare gli altri se no è per quello non ti stai perdonando e questo viene in casa non dimentichi i tuoi peccati perché non sai amarti e l'orgoglio ti può allontanare da Dio quello che dimentica i suoi peccati è umile quello che non dimentica i suoi propri peccati è orgoglioso chiediamo al Signore in questo giorno di digiuno Dio Padre Onipotente nel giorno 31 di digiuno mandaci lo Spirito Santo con il dono della perseveranza per poter crescere ogni giorno nella tua volontà e poter vivere dell'abbondanza dei tuoi doni celesti qui sulla terra e in tutta l'eternità per Cristo nostro Signore amén e la benedizione di Dio Padre figlio e lo Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre tutti i giorni della vostra vita e la Verge Maria vi accompagni sempre amén 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 grazie a tutti